Consigliere Sturni, prego consigliere. Sì, grazie Presidente. Per annunciare quello che già abbiamo detto pochi minuti fa, che il Movimento 5 Stelle voterà a favore dell'istituzione di questo strumento di partecipazione importante che avrà l'opportunità di accogliere sia la cittadinanza che associazioni ed altri soggetti che vorranno fornire un contributo fattivo all'amministrazione in materia di innovazione tecnologica e trasformazione digitale. È un primo passo, mi viene da dire, su questo tema legato agli strumenti di partecipazione e che anche questa maggioranza, attraverso la proposta di delibera di revisione dello Statuto di Roma Capitale che è stata presentata il 4 di aprile, ha intenzione di riformare tutti gli istituti di partecipazione su Roma Capitale considerato che l'ultimo regolamento è di 23 anni fa. Grazie.